Una cosa di più secondo me che va sottolineata, allora intanto a differenza di Cosa Nostra che i giornalisti li ha faciliati, la Camorra ha ucciso soltanto Giancarlo, ma uccide Giancarlo anche su spinta di Cosa Nostra, cioè lì c'è come dire oltre all'alleanza sugli affari c'è la necessità anche da parte di Cosa Nostra di esportare questo modello di attacco all'informazione di attacco allo Stato. In Nuvoletta, famiglia di Marano, ancora oggi potentissimo della sua declinazione seconda cioè Polverino, sono probabilmente l'unica famiglia esterna alla Sicilia a sedere nella cupola corleonese per intenderci. Rina andava a Marano? Certo, Pignataro Maggiore nel Casertale, un luogo che ospitò Provenzano, ospitò Luciano Liggio. Nel caso tra l'altro della Camorra che decide di uccidere Siani, noi abbiamo di fronte due organizzazioni potentissime che sono quella della nuova famiglia che all'interno sta subendo una sorta di scessione perché ha eliminato Cutolo, il grande nemico, la nuova camorra organizzata. La nuova famiglia ha Antonio Bardellino, il vero capo spirituale dell'organizzazione, lui ormai già stava in Sud America. Il guru. Tra l'altro Bardellino poi è responsabile di un conflitto importante con i Nuvoletta, ma in quel caso Giancarlo Siani è abilissimo, cioè capisce che Giunta è un problema proprio perché sta dando fastidio ai casalesi di Bardellino, che hanno un esercito potente, che sono molto influenti, che in realtà con i Nuvoletta non sono in un buon rapporto perché Bardellino è affiliato ai nemici dei Corleonesi e quindi i Nuvoletta invece sono Corleonesi e Siani capisce che lì si sta giocando a Torre Annunziata una partita gigantesca e che Valentino Giunta arrestato nel territorio Poggio Valle Sara, nella zona dei Nuvoletta dove era stato accolto e usa questa espressione, il suo ultimo articolo, potrebbe essere il prezzo pagato, scrive Giancarlo Siani per la pace con i Bardellino, il prezzo pagato di Nuvoletta per la pace con i Bardellino. E' quello l'articolo che diciamo lo condanna a morte. Sono quelle righe. Giancarlo Siani sapeva di star studiando un congegno pericoloso, mi sono fatto l'idea che non avesse fino in fondo consapevolezza che quel congegno potesse fargli del male. Forse solo alla fine, ma proprio alla fine alla fine. Era più un'ansia secondo me dovuta alla reputazione, alla solitudine. Mandare un commando ad ammazzarlo sotto casa era così impensabile che per esempio Enzo Perez che era un decano dei cronisti di Camorra nel mattino, non era impensabile. Cioè molti iniziarono a pensare ad altro perché dicono ma com'è possibile? Cioè ma com'è possibile? Hanno ucciso un giornalista, neanche assunto e non hanno ucciso i grandi decani che si sono occupati di Camorra dando scopo, notizie. Anche lì ci fu l'invidia. Tra le motivazioni che portarono le indagini ad andare in una zona, in un vicolo cieco, assurdo, ci fu l'invidia di moltissimi colleghi, addirittura l'invidia di un giornalista ucciso. Perché era? Ma può mai essere? Un ragazzino, un ragazzino che mette paura alla Camorra. Amusivo, giovane, sconosciuto. Ma che mette paura alla Camorra, ma dai. Poi a tu rianunziare, cioè. Ma secondo te questi che fanno miliardi di lire al giorno vanno ammazzati se tu voglio? Ma dai. Nessuno vide quell'articolo, va detto. Tutti iniziarono a leggere. Legge gli articoli. Quell'articolo non lo videro proprio perché era interessantissimo questo. Era un articolo di cronaca. Cioè non era un editoriale. Loro cercavano editoriali, interviste che chissà cosa potevano svelare. In quell'articolo lui congettura, lui va oltre. Tramite l'analisi arriva la verità. E siccome è una verità, poche righe. E' una verità che inizia a rimbalzare negli ambienti di Camorra. Quando vanno da Valentino Giunta. Valentino Giunta non vuole la mortesia. No, infatti. E gli dice, se lo fate, lontano tu rianunziare. Per carità, altrimenti ci vengono addosso a noi. E in uvoletta. In realtà con l'operazione loro la fanno per pulire la loro reputazione criminale, che vale tanto. Cioè sono soldi. Reputazione criminale significa che io e te ci sediamo in un tavolo, facciamo un affare. E quell'affare lo fai con me perché ho reputazione criminale. Se inizi a girare che io mi sono venduto un mio uomo ai carabinieri, che non ho avuto le palle di ucciderlo. Sì, scardinare i principi, i valori su cui... Io a questo punto non mi fido più. Perché tu stai chiudendo un accordo con me. Quindi la sua morte, vista in quest'ottica, era relativa. Va anche detto questo, la prima edizione del mattino uscì senza neanche la notizia. Quindi loro avevano in questo... Il famoso Sianichi. Sianichi. La riflessione che voglio dire è che loro si pongono è quanta tensione avrà questo omicidio. E avevano avuto ragione per certi versi. Non si aspettavano che il clima politico, culturale del paese era prossimo a mutare. E quindi questo ragazzo ucciso, che per nove anni continuano a dire, ma sì, ma tutto il paese, ma sì, ma no, ma quale camorra. E questa espressione è importante ricordarlo oggi, soprattutto se ci sta ascoltando qualche ragazzo, qualche ragazzo. Perché è la diffamazione sempre che ci fa stare tutti tranquilli. Perché se Sian è stato ucciso per questioni di ragazze, storie personali, tu ti senti in posto. Ah vabbè. Perché se invece è stato ucciso perché ha scritto, tu devi prendere posizione, devi intervenire, devi cambiare la tua vita. Devi stare da una parte. Invece è meglio dire, boh, ma quello Sian, stava in mezzo ai pastetti, chissà che cosa politica c'era dietro, no? Invece c'era il suo lavoro e la sua intelligenza. Invece è meglio dire, boh, ma quello Sian, stava in mezzo ai pastore, no? Grazie a tutti.